Sono più di 5 milioni i cittadini campani chiamati alle urne. Campania che non registra però un elevato numero di eventi diritto che si sono regati ai seggi. Nella giornata di domenica è registrata la percentuale del 38,92% che relega la regione Campania ad una delle ultime posizioni per affluenza tra le sette regioni che dovranno rinnovare il Consiglio regionale. Registrato il 42,78% invece per quanto riguarda il referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari. Tra le città del Vesuviano alle ore 23 di domenica Torre del Greco registra la bassissima percentuale del 32,83% di votanti. È andata meglio invece nei comuni dove i cittadini sono chiamati a votare anche per il rinnovo del Consiglio regionale. A Ercolano registrato alle 23 di domenica il 51,94% con il confronto tra il sindaco uscente Ciro Bonaiuto per il centrosinistra, Colomba Formisano sostenuta dalle liste civiche, Luigi Parentato con Centro Democratico e Pierluigi Sorrentino con Ercolano e la Stella, la città e i cittadini. A San Giorgio a Cremano invece registrato ieri sera il 50,36% in una tornata elettorale che vede confrontarsi per la carica di sindaco i candidati. Salvatore Caldieri con Fratelli d'Italia, Luigi Gallo per Italia in Comune, Giovanni Marino supportato da diverse liste civiche, Patrizia Nola per il Movimento 5 Stelle e il sindaco uscente Giorgio Zinno per il centrosinistra. Altri 26 i comuni dove si vota per le amministrative. Caivano, Calvizzano, Cardito, Casalnuovo, Casamarciano, Casandrino, Casavatore, Frattamaggiore, Giuliano, Grumo Nevano, L'Acquameno, Mariglianella, Marigliano, Massalubrense, Monte di Procida, Mugnano, Poggio Marino, Pomigliano d'Arco, Pompei, Procida, San Gennaro Vesuviano, San Paolo Belsito, Sant'Anastasia, Saviano, Sorrento e Terzigno.